Qui vi presentiamo le 5 migliori specchi ingranditori per il trucco. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Bro Alcare specchio da trucco con luci LED 1X-5X. Si ricarica tramite la sua porta USB, senza la necessità di acquistare batterie extra sicuramente un bel risparmio. La fatturazione richiede circa 4-5 ore e consente l'utilizzo per 5-6 ore. È uno specchio bifacciale, illuminato su entrambi i lati. Da un lato offre una visione a grandezza naturale, per soddisfare tutte le esigenze quotidiane, mentre dall'altro offre un ingrandimento 5X, per trovare ogni minimo dettaglio. Ruota di 360, all'insegna della massima praticità. Passando al numero 4. Fanci 10X specchio ingranditore per trucco con luce LED e ventosa potente. L'esclusivo dispositivo brevettato a ventose Asilo consente di riparare saldamente la struttura allo specchio del bagno o a varie altre superfici lisce. La rata richiede solo 5 secondi, basta collegarlo, ruotarlo e fissare lo specchio nella zona preferita. La luce LED del risultato di uno riproduce fedelmente la luce naturale. Fornisce uno zoom 10X, perfetto per usare cosmetici e rifinire con una pinzetta. Grazie alla rotazione di 360 può essere inclinato secondo le specifiche esige. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Limerence specchio trucco specchio ingranditore specchio cosmetico illuminato. La superficie dello specchio è circondata da un anello di illuminazione a 18 led da risparmio energetico, che garantisce la migliore presenza del viso in qualsiasi tipo di condizione di luce ambientale. La struttura è composta da due superfici speculari girevoli. Da un lato lo zoom 5X permette di vedere ogni dettaglio del viso, di applicare a Yeliner, ombretto, rossetto, per la cura delle sopracciglia o per il taglio con precisione. D'altra parte puoi rispecchiare da solo a grandezza naturale. Almostat è top of our list at number 2. Babilis 8.438 specchio luminoso. Grazie alla sua struttura bifacciale, questo specchio soddisfa ogni esigenza. Si tratta in realtà di un modello circolare misura 20,5 cm che prevede da un lato uno specchio normale, e dall'altro uno specchio che amplifica 8 volte. Fornisce tre diverse impostazioni di luce. Meravigliosa dal punto di vista estetico, ha una finitura cromata. La base è antiscivolo. Risolve il collegamento alla rete ed è dotato di un interruttore. E infine il numero 1 della nostra lista. Specchio da cucco da parete. CEE A++. Ingrandimento 7XO10E. È un doppio specchio per il trucco con luci a LED lampadina composta da oltre che ingrandimento. È ottimo per il programma di fascino quotidiano o per radersi con precisione. Viene utilizzato in due versioni, che consentono uno zoom di 7 o 10 volte. Il suo braccio articolato ti permette di scoprire sempre uno degli ambienti più ideali. Si monta al muro in un paio di semplici passaggi, preservando l'area. Discreto ma migliorato, offre un tocco di classe a quali per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.